Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi faremo la color challenge! State chiedendo dove è Ale? E adesso arriva Fra 3, 2, 1 Ok Ale sarà felice e non avrà più la mal di testa Perché praticamente oggi faremo la color challenge Il suo dorato Ale per favore Samuel! Sei felice? Sì! Quindi questa è la color challenge Dobbiamo colorare il nostro caro disegno a caso Scegliendo con questo Con pennarelli o matite E per farlo ci servirà la nostra vaschetta Con la scritta pennarelli o matite Fondantissime Quindi chi inizia? Carta, forbici, pietra No, ho sbagliato Carta, forbici, pietra Carta, forbici, pietra No! Vediamo, non aprirlo Le ho presi tre Ah, che scappo Vai Uno, uno Questo è uno? Sì, non guardare Non leggerlo Vado io Ale Chiudimi le occhi Inizia con la M Io ho Le matite E te hai? Anizia con la M Le matite Le matite Sì! Ale, mezzuno Mia Allora Svuotiamo tutto questo Wow, che pioggia Pioggia di pennarelli e matite Allora, mettiamo dentro adesso il contenitore tutte le matite No, io volevo metterci nera Allora, Charmware è tutto nero E io non so se posso prendere il nero Ah! Allora, si vede Oh! Allora, vediamo quanti colori Quanti colori Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Sette Sette No Dieci Unici Do Dici Dici Quattro Dici Sette Sette Cento Dici Nove Venti Ventuno Cinque Colori Servono Cinque Cinque Allora, chi inizia stavolta? Io No, ho C'ho carta forbice Piedra Carta forbice Pietra Oh, 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 oh Guardate a me No, prima No Dai, chiedemi gli occhi Ale Vado Oh Oh, no, no, no L'ho perso Uno Due Non vedo niente Eeeh Aia, l'età Ragazzi, vedete, questi si vedono Due Tre Non lo so Cioè Devo scegliere bene Quali la mano? Non riesco ad ispirare Quattro Cinque Mmm Sono felice No Io voglio il nero Non tanto Perché Il verde Dove lo usare Io Marone Si dai Nero Si No Io Il marone E nero Lo prendi dopo Vediamo Lo condividiamo Sì, ma lo devi scegliere Ale Allora Io ho avuto questi cinque colori E sono molto felice Quindi adesso Tocca Ale Allora Vi ricordate Avevo il giallo Il nero Il marrone Il verde Il rosso Cinque Quindi adesso Non ti preoccupare Tanto fa niente Se non prendi il nero Quindi adesso Rimetto dentro Aspetta Prima devo mettere Le marchine Così mi ricordo Allora Con questo Faccio Questo Oh no Lo faccio Sarà messo Allora Questo Questo Giallo E tutto qua Nero Quindi anche questo Sta così E anche questo Quindi io ho finito Di fare i marchini Adesso così Ve lo ricordo E vi No Che do io Che do io Uno Due Tre Tre Quattro Cinque E dai Il blu È uguale al nero Quindi Sì dai Va bene Quindi io mi prendo Il mio Giallo Mi prendo Il mio Rosso E voglio Il marrone L'ho trovato E il mio Il mio Verde Io ho preso Il mio Vabbè Mi prendo Tu prendi Quest'altro Verde Io prendo Anche Questo Verde Quindi adesso Iniziamo A colorare Colorare Allora Io inizio Dai capelli Del nostro Caro Januar E saranno Proprio Giallo Saranno Proprio Viola Sto iniziando Alla Grande Azzurro Ma lo stai Facendo Viola E le orecchie Non le devi Colorare Viola Sono nere Devi fare Un altro Colore Ok Andiamo Ho finito Ok ragazzi Januar I capelli Adesso Dovrò Fare La parte Marroncina Ah Lo fai Con quello Va bene Io prendo Il mio Marrone E comincio A colorare Vabbè Tanto è poco Il marrone Sembra Io volevo Il grigio Però Vabbè Ok Col marrone Questo è L'ultimo Step Ok Alla Sto facendo Januar Blu Sembra Januar Di Qua E dove c'è Il bastone Della Primavera E qua Invece Di D'inverno Sì Il mio Il solito Sembra Però La parte Più strana È la faccia Perché la farò Rossa Sei rossito Vabbè L'ho fatto Chiaro Non è sangue No Allora Col verde Faccio Questa Partica Anche la cosa Sarà Blu Sì Fatto Ora Non manca Solo Nero È finito No Quello Sì Quello Sì Quello Sì Mancano Questi Questi Vado Con La Coda Ok Coda Adesso Questo Vado Mamma Mamma Hanno Gatto Giù Vai Ale La faccia Falla di Rosa Anche Sì Perché Perché Sì Sta bene Con I Rosa E La Maschera Non lo So Falla di Blu Perché Il costume È Blu Ma L'hai Fatto Allora Ragazzi Io Arrivo Quando Ho Finito E Mi Manca Solo Da Colorare Una Cosa Io Coloro Un Tanto Guarda Adriano Ma Il tuo Chat Noir È Stranissimo Che Voto Darresti Ale Dal Tuo Anche Uno Eh Io Uno Io Voto Il Nero Ed È Ugualissimo Quello Chat Noir Perché Ho pure I Capelli Biondi Allora Un Un Cinque Ah Sì Attento Pure Un Cinque Io Ti Stavo Dando Un Otto Allora Ti Do Un Die Anche Io Allora Ti Do Un Die Allora Quasi Finito Guarda Anche Qua Dentro Fai Vedere Ale Anche Qua Dentro Sì Ho Dato Pure Gli Occhi Di Blu Fagli Vedere Ale Anche Qua Dentro Ok Ho finito Però Adesso Dopo Vi faccio vedere Guardate Allora Ale Rischiato Tutti i colori E direi Che la maschera È bellina Cioè Bello Ok A me Manca La maschera Adesso La coloro Adesso Coloro Di verde Acqua Tadam Finito Quindi No Mancano Le orecchie Ale Non li ha Colorati Adesso Anche Io Coloro Le orecchie Ale Coloro Le orecchie Di blu Invece Le coloro Di nero La tutta Di nera Nera Occhino Di verde Ma che Ale Perché Ridi Ok Guardate Il nostro Nero Direi Che Il mio È uguale Un po' Direi Che Il mio Esizza Occhi Quindi Ragazzi Grazie Per Avere Visto Questo No Sto Prendendo Il colore Ale No Dobbiamo Dire Ciao Quindi Adesso Ci vediamo Alla Prossima Vita Prossimo Video Quindi Ciao Scrivete Sotto I commenti Per chi È stato Più Bravo Colorare Che Ha scelto Ciao Ciao